dedicato toyota chr siamo in sezione radio la home generale via voce bluetooth streaming musicale gestione audio e video tramite usb questa invece la musica poi abbiamo un dsp abbiamo tutto il mondo android qui stiamo su youtube andiamo su spotify possiamo dare l'ok aumentiamo il volume mettiamo in pausa usciamo e così tutte le app insomma android qui stiamo su maps posizione real time poi abbiamo la condizione schermo scegliamo quale app condividere torniamo in visualizzazione singola qui abbiamo tutte le impostazioni di maps chiudiamo poi check veicolo con apertura sportelli qui andiamo nella sezione car setting gestione aria condizionata come vedete a secondo del comando che diamo viene visualizzato qui abbiamo le informazioni della macchina pressione pneumatici e informazioni pneumatici e poi abbiamo la gestione ibrida adesso andiamo un attimo in movimento come vedete come mettiamo la prima abbiamo la gestione ricarica in più abbiamo recuperato la retrocamera originale eccola qui io come al solito vi ringrazio sempre buon fine settimana e poi ci vediamo con altri video